Cosa funziona a Rivanazzano e cosa non funziona secondo lei? Non penso che qua abbiamo problemi che non funzionano, sembra che vada tutto bene, nel senso che il comune è abbastanza efficiente per quanto mi riguarda, anche per la raccolta dei rifiuti e cose varie, per me funziona tutto. Ci sono problemi in genere, anche sui parcheggi, siamo in un osi di pace secondo me. Lei vive qui a Rivanazzano? Abito qui a Rivanazzano, sì. Secondo lei soffre un pochino la vicinanza con Salice e Termi oppure no? Penso di no, penso di no. Sono quasi legati come cittadini, perciò non ce ne abbiamo problemi, almeno per quanto mi riguarda. Potrebbe essere un esempio per gli altri comuni dell'Oltrepo? Secondo me sì, per Rivanazzano potrebbe essere un esempio per altri comuni. Adesso non so come sono gli altri comuni, però potrebbe essere un esempio. Guarda, io esco poco qui di casa, quindi funziona bene Rivanazzano, devo essere sincera. Abiti qui tu? Abito qui. Secondo te qual è il fiore all'occhiello di Rivanazzano, il punto forte? Mi piace molto la piazza, sì. Secondo te soffre per la vicinanza di Salice e Termi oppure no? No, assolutamente no. Ha una sua identità? Assolutamente no, Salice e Termi ormai è andato. In cosa potrebbe essere da esempio Rivanazzano e Termi per gli altri comuni? Ma sai, qui fanno molte attività, l'estate soprattutto, è abbastanza popolato, è vivo come paese. È una località viva e attiva? Attiva, sì. Qui coinvolge anche i cittadini? Sì, sì, non solo i rivanazzanesi. Quindi attira anche persone da fuori? Sì. Quindi un giudizio positivo anche sull'amministrazione immagino? Molto. Io non sono di Rivanazzano, però secondo me funziona molto bene, c'è di tutto, si sa dove trascorrere un pomeriggio, ci sono dei locali ben funzionanti, ospitali, tutto qua. Quindi si trova bene? Sì. Per quale motivo viene qua a Rivanazzano? Io vengo perché vado in palestra, vengo a fare un giro al mercato, a volte vengo a bere il caffè, critiche da fare non ne ha. No. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot-jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.